Dottor Lorenz Faulkner, avete messo insieme tante risultanze, tanti risultati di ricerche scientifiche sul neuroblastoma che è una malattia subdola, una malattia che colpisce purtroppo con un'incidenza devastante i bambini. Sì, cioè, in realtà non è, diciamo, il neuroblastoma di per sé è una malattia relativamente rara, però è in cima alla lista delle cause di morte oncologiche dei bambini. Quindi, diciamo, è rara ma è molto importante. Ed è una malattia che per questo motivo è stata l'obiettivo di tante risorse di ricerca ed anche è difficile da gestire perché a seconda, diciamo, del gruppo di rischio ci sono dei pazienti in cui in realtà vanno bene da soli, non c'è bisogno di fare niente e ci sono dei pazienti invece che hanno bisogno di terapia molto, molto intensa per avere probabilità di cura, di solito non superiore purtroppo, quelli ad alto rischio, intorno al 40-50%. Quello che Q2SILDREN ha fatto è stata quella, diciamo, di mettere dei professionisti globalmente intorno a un tavolo usando tutti i mezzi che oggi la tecnologia ci mette a disposizione e quindi abbiamo coinvolti maggiori aspetti del settore provenienti da istituzioni importanti, dall'Università di San Francisco, a Harvard, a un ospedale pediato di Amsterdam e altre e poter mettere a disposizione di professionisti in paesi a basso e medio reddito queste consulenze, questi pareri esperti e che poi alla fine si sono, come dire, coagulate in questa pubblicazione che uscirà a breve nella rivista internazionale di oncologia pediatrica che definisce delle solite raccomandazioni, chiamiamole linee guida per trattare il neuroblastoma anche in relazione alle proprie capacità in termini di attrezzatura, terapia di supporto, eccetera. E quindi questa è la prima pubblicazione che in realtà definisce in modo chiaro la migliore terapia a seconda del contesto ed è una pubblicazione che abbiamo, diciamo, assicurati fosse cosiddetta open access cioè che fosse disponibile a tutti senza dover pagare che a volte costa molto l'abbonamento alla rivista scientifica. E la ringraziamo.